Ben tornati viandanti nello spazio FIMU TAU. Io sono Leo e siamo tornati sul corso di matematica avanzata. Siamo alla quarta lezione e alla terza in realtà lezione sull'algebra universale. Abbiamo definito il concetto di algebra universale, di universalità. L'abbiamo poi calato in un contesto più peculiare, più applicativo con le UMP. Quindi abbiamo caratterizzato il concetto di universalità all'interno delle costruzioni categoriali. Adesso vogliamo andare a dare una definizione molto peculiare che ci servirà in realtà per definire in maniera forte e potente tutti gli oggetti associati all'UMP. Quindi la cosa che vogliamo fare è andare poi effettivamente ad applicare, a riconoscere all'interno della teoria delle categorie come le UMP funzionano, come è possibile persino rendere universali le costruzioni universali. Quindi stiamo andando verso un grado sempre maggiore di astrazione, sempre un grado maggiore di generalizzazione e ci serve definire però qualcosa di particolare. Che sono questi oggetti speciali? Gli oggetti speciali sono di tre tipi, che li andiamo a definire tutti e tre insieme. Quindi sono gli oggetti terminali, gli oggetti iniziali e gli oggetti zero. Quindi li andremo a prendere piano piano tutti e tre, li andremo a costruire piano piano tutti e tre e andremo appunto a vedere come questi oggetti sono utili e qual è la loro effettiva potenza, perché ci permettono diciamo di estendere in maniera generale il concetto di UMP. Ebbene, siamo all'interno del contesto categoriale, quindi abbiamo una categoria C che è costituita da oggetti e da morfismi. Allora, in una categoria C si dirà oggetto, lo scrivo così abbreviato, oggetto iniziale, un oggetto, chiamiamolo, lo si chiama sempre zero, magari qualcuno ci aggiunge qualche ornamento, robe così, lo chiamiamo zero comunque, un oggetto. Tale per cui per ogni oggetto X appartenente alla categoria, quindi che è presente in C0, quindi per tutti gli oggetti della categoria esiste un unico e questo importante morfismo U che fa questa cosa, cioè che parte dall'oggetto iniziale e arriva essenzialmente nell'oggetto X. Quindi, attenzione, l'oggetto iniziale così definito è fatto in questa maniera. Se noi supponiamo che questo è il nostro oggetto O e questi sono tutti gli altri oggetti della categoria, i famosi oggetti X, A, X2, tutto quello che volete, allora da O partono delle relazioni che sono uniche, che partono, quindi che vanno dall'oggetto iniziale e raggiungono tutti gli altri oggetti. La cosa che quindi non possiamo fare, la cosa che non abbiamo con un oggetto iniziale, sono ad esempio i morfismi paralleli di questo tipo, Cioè dall'oggetto iniziale verso un determinato oggetto, diciamo X qualunque, parte un unico morfismo. Quindi questi morfismi definiscono attorno all'oggetto iniziale una sorta di rete rigida di morfismi. Queste reti rigide vedremo dopo, diciamo, a cosa servono. In maniera del tutto speculare abbiamo la definizione di oggetto terminale. Gli oggetti terminali nella teoria delle categorie si indicano con 1 o con un 1 con una stanghetta, a seconda, diciamo, dei differenti ornamenti che si vogliono dare e un oggetto terminale è fatto in questa maniera. Cioè esiste per ogni X, ovviamente, questo è sottinteso, per ogni X in C0, cioè per ogni oggetto, esiste un unico morfismo U che vada, che parta dall'oggetto e arrivi in 1, cioè nell'oggetto terminale. Allora, ovviamente, la rete qui è del tutto invertita, se quello al centro, quello più grande, l'oggetto 1, abbiamo questi morfismi unici che arrivano nell'oggetto, diciamo, terminale. Quindi abbiamo una rete rigida, ma con una inversione delle frecce, cioè della direzione delle frecce. Infine, e questa è la cosa che voglio darvi, è l'oggetto 0. Quando è che un oggetto si dice 0 in una categoria, quindi non lo si indica con 0 perché l'abbiamo già usato, però lo si può anche indicare con 0, ma comunque un oggetto è detto 0 in una categoria che è sia terminale che iniziale. Allora, abbiamo la definizione banale o meno di questi tre tipologie di oggetti. L'oggetto 0, diciamo, racchiude in sé le proprietà degli altri due oggetti. Ma cosa ci servono questi due oggetti, queste tipologie di oggetti? Innanzitutto vorrei mostrarvi una cosa che, come potete vedere, essenzialmente esiste un unico morfismo. Questo per oggetto terminale vale uguale per oggetto iniziale, che parte da uno qualunque degli oggetti della categoria e arriva all'oggetto. Ebbene, questa è la definizione di una UMP, cioè abbiamo l'universalità, cioè per ogni oggetto abbiamo questa esistenza di questo morfismo, abbiamo l'unicità di questi morfismi, perché appunto per definizione essi sono unici, e quindi effettivamente in un qualche modo l'oggetto terminale è appunto racchiude in sé la proprietà di termine, la proprietà di essere codominio dei morfismi in una categoria. Infatti, guardate, avendo la costruzione di questa rete rigida, essenzialmente se noi prendessimo una relazione tra qualunque di due, tra qualunque due oggetti della categoria, questa relazione potrebbe effettivamente fattorizzare attraverso appunto le relazioni terminali, cioè attraverso appunto queste relazioni, questa rete rigida appunto che porta, che conduce all'oggetto terminale. Stessa cosa per l'oggetto iniziale. Vorrei anche farvi notare una cosa particolare, che se in una categoria esiste un oggetto iniziale e un oggetto terminale, quindi abbiamo questo 0 e questo 1, evidentemente tra i due ci può essere un unico morfismo che parte dall'oggetto iniziale e arriva all'oggetto terminale. Per la definizione ovviamente di questi due oggetti. Qual è la cosa che però non abbiamo fatto? Se noi consideriamo un oggetto terminale, perché stiamo, diciamo, considerando quello, abbiamo un 1, cioè l'oggetto terminale di una nostra categoria. sappiamo che da x, quindi qualunque sia il nostro oggetto x, a questo 1 giunge questo morfismo unico, che è il nostro morfismo u, che definisce la UMP dell'oggetto terminale. Ma la cosa che noi, su cui noi non abbiamo messo alcun vincolo nel caso dell'oggetto terminale, è su questi morfismi. C'è quelli che partono dall'oggetto terminale e arrivano agli altri oggetti. Nel caso dell'oggetto iniziale, la cosa, diciamo, è ovviamente del tutto speculare, perché esisterà un unico oggetto, un unico, scusate, morfismo verso x, ma noi non abbiamo dato alcuna definizione, alcuna proprietà, sui morfismi che vanno nell'altro lato. Ebbene, questa costruzione ci permette di estendere il linguaggio delle variabili. Se non sapete cos'è una variabile, c'è un video nel corso di Fisica Elementare in cui si parla di variabili. Ci permette di estendere la concezione, la costruzione di variabile e di costante proprio all'interno del linguaggio categoriale. Perché questa cosa? Siccome all'oggetto terminale, all'oggetto iniziale sono associate delle reti rigide, cioè delle reti che sono costanti, se vogliamo, in un qualche modo, cioè delle reti che sono statiche di morfismi che noi conosciamo esistere e ne conosciamo anche la forma, evidentemente queste altre informazioni, queste diciamo queste altre relazioni che non sono normate dalla UMP sono delle relazioni che mettono in contatto l'oggetto X con un oggetto particolare, con un oggetto che ha una costruzione rigida con tutti gli altri oggetti. Vediamo un poco di chiarire con un esempio grafico e un contesto molto complesso supponiamo di avere appunto il nostro oggetto terminale 1 il nostro oggetto X ed il nostro oggetto Y ebbene entrambi gli oggetti per definizione della UMP che abbiamo dato di 1 dell'oggetto terminale hanno questa rete unica di oggetti di scusate di relazioni quindi queste relazioni U1 e U2 sono definite sono rigide sono statiche allora se noi volessimo caratterizzare la relazione una qualunque relazione tra X e Y effettivamente noi possiamo andare a studiare ad esempio questa relazione qui tra 1 tra l'oggetto terminale propriamente e la X perché se questa relazione qui la chiamiamo A e questa relazione qui la chiamiamo B seguono le leggi delle categorie effettivamente A può essere ottenuta come come la composizione di B e U2 quindi essenzialmente l'informazione degli oggetti di tutti gli oggetti X Y qualunque sia l'oggetto della categoria passano attraverso le relazioni che vanno diciamo verso o vengono da gli oggetti terminali e iniziali quindi gli oggetti terminali e iniziali servono a definire le informazioni costanti dei nostri e delle nostre categorie perché questa B ad esempio può essere un'informazione costante invece gli oggetti che non sono né terminali né iniziali come la famosa X di qui sono delle variabili quindi con questa costruzione noi possiamo estendere il concetto di variabile e di costante possiamo fare anche altro e questa poi è la cosa diciamo la proprietà che ci servirà come potete vedere abbiamo detto abbiamo detto qui ad esempio per il caso dell'oggetto iniziale che queste sono UMP in realtà queste sono le UMP più semplici che noi possiamo costruire quindi il prototipo di oggetto iniziale e di oggetto finale sono i due prototipi per la costruzione dei concetti delle strutture universali e in effetti utilizzeremo la costruzione degli oggetti iniziali per definire tutti gli altri oggetti che hanno delle UMP sempre in termini categoriali ultima cosa e poi termino qui il video è proprio questa che è una proprietà che appartiene a quasi tutti gli oggetti con una proprietà universale e che se noi in una categoria supponiamo prendiamo il caso degli oggetti iniziali abbiamo due oggetti iniziali essenzialmente questi due oggetti iniziali avranno la proprietà di essere isomorfi nella categoria scriviamo qui se la nostra categoria è C e dove questo simbolo è proprio l'isomorfismo cosa significa questa cosa che in maniera molto semplice la definizione di UMP è quella di appunto di esistenza di un unico morfismo da e verso una struttura di esistenza ed unicità quindi ad esempio se però ad esempio per la UMP di O' cioè di questo zero primo in una qualche maniera di questo oggetto iniziale esiste sempre un morfismo unico U' quindi esiste sempre ed è unico verso qualunque altro oggetto essendo O' secondo un oggetto effettivamente esisterà questa questo diciamo morfismo unico vale però un'altra cosa lo sottolineo così dalla UMP quindi dalla proprietà universale dell'oggetto O' secondo perché anche lui è appunto iniziale deve esistere unica unico un morfismo U' che va da O' secondo a O' primo quindi queste due proprietà universali dei due oggetti costruiscono una coppia di morfismi uno l'inverso dell'altro e quindi costruiscono quello che è un isomorfismo quindi si dirà che gli oggetti iniziali terminali O' zero come ne abbiamo definiti prima in una categoria sono unici a meno di isomorfismi cioè unici ignorando diciamo l'esistenza di oggetti che sono a loro isomorfi ovviamente per collegarci anche al corso di geometria elementare l'isomorfismo nient'altro che è che è una costruzione di identità di equivalenza di uguaglianza nel contesto nell'ambito della teoria delle categorie quindi senza dilungarmi oltre invitandovi a seguire gli altri corsi a continuare a seguire questo corso di matematica avanzato invitandovi a seguire a iscrivervi alle varie pagine al canale youtube a commentare a in una qualche maniera accompagnarci in questo viaggio nello spazio film tau augurandovi sempre la rivoluzione vi saluto viaggio 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 Grazie a tutti.